ansueto bianchi però mi colpisce chi sa un po di azione cattolica sa che il motto fondativo dell'azione cattolica quel motto che ormai è quasi 150 anni era preghiera azione e sacrificio e mi pare che papa francesco abbia un po aggiornato questo qui per esempio che viene salutato adesso e monsignor piazza orazio francesco piazza vescovo di sessa orunca è stato a lungo assistente regionale della campania dell'azione cattolica